musica 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 bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui sul mio canale a fare il secondo episodio della nostra serie partita challenge andiamo subito ad aprire la demo andiamo su esperto napoli perché è una squadra italiana io per questa partita mi scelgo Borussia Dortmund contro PSG si si gioca musica 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 ok ragazzi questo video credo che lo vedrete tutto perché perché tanto la demo durano soltanto 3 minuti quindi vi vorrei dire che nello scorso episodio è stato l'ho tagliato quindi non avete sentito tutto quello che avete detto che ho detto ma oggi lo sentirete probabilmente già ci sono i due e praticamente questa serie consiste che io devo fare una penalità poi se volete scrivetemi delle domande perché uscirà il vlog scrivete come vorreste chiamare il canale perché voglio cambiare il canale il nome del canale perché sono molto più pro gamer e lo voglio cambiare e vabbè voglio cambiare il nome del canale poi vi vorrei dire che se le domande per questa serie ci saranno delle penalità se perdo che voi asserete sotto la penalità che devo fare sotto gli commenti dopo non lo so penalità più votata tipo se ci è stata più volte detta quella penalità farò un video che faccio quella penalità un attimo devo abbassare il volume cazzo che altro sembra questo volume ok no vai subito ibra 2-0 ibra poi chi parte chi parte siiii ibra ibra ragazzi poi la penalità tipo non farò penalità stupide tipo caccia fuori il tuo pesce senza che le scrivete queste beh si sarà votata tipo no ma non ma non una penalità normale ma non 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 ilato come un muro e corri Ciro corri 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 attenzione si vai 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 Anderfell ok saliamo 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 bravo Ciro bravo Ciro aspetta vai schmerzino Iqtelen Iqtelen uqtelen 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 dove cazzo corone d frustami Cominciamo con il secondo tempo Vado a partire! Bravissimo! Bravissimo! Ma che è fatto? Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo! Bravissimo! Bravissimo! Sei giù centrale? Si! Immobile! Red by the defender to intercept! Sven Wendor! Tackle here! Antwidi! Latan Ibrahimović! And the player working hard to stay in possession! Le Vetsi! Si! Spazzali le Bravo! Fuori! Capso! Fuori! La ticciola stava in aria! Ibrahimović! Che culo di merda! Figlio di puttana! Passa! Casino! Si! 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 Va! Passa l'ielo, passa l'ielo angolo Filho di puttana No, vai Corre, 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 corre Corre Bravo, bravo vai in del sol Uno, uno Bravo Bravo Cavani Metti il turbo Ah ma che passaggio Marco Reus Sì, guarda il mobile E' mobile E' che cari hanno Metti il basso Sì Vento 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 Dovente l'avversario Si Vento Vento eccolo! ecco l'ho! il numero lo so ah no, ma lo so, io lo so a FIFA 15 erano i diversi di quello lì Geragor Geragor ci spesso le gambe Cavani anche a te tutto sulle gambe tutto sulle gambe oh questo, rabbio questo è pezzo di gioco più um um Sahin Sahin immobile sballa il passaggio recuperano tutto verratti passaggio per pastore fuori e in in arriva Baratti Maxwell vai bravissimo bravissimo ora sali 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 che gol sali che gol successo, finita la partita allora bella ragazzi a partire e finisce qui passate dalla pagina facebook in descrizione che farà un vlog Ciro immobile c'è ancora la maglia del torino ehm pagina in descrizione che farà un vlog se volete le domande le scrivete anche nei commenti poi ehm lasciate la penalità perchè ha perso e e e e mi sono indicata e e Se avete visto tutto il video c'era prima grazie per la visione bella chiude